Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e Peppo e siamo per la GoPro No, 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 così non mi piace, così non mi piace Fa la, fa la diversa, diversa In che senti diversa, scusami? No, urla, urla, urla Perché devo urlare? Perché un lato fa figo, dai, dai Fa figo cosa? Vabbè, ricominciamo, ricominciamo, ricominciamo E siamo qua E siamo là E siamo qui, e siamo lì E siamo qui Va bene? Ora sì Ora sì Ora sì che mi piace Mal di testa No, come prima Un mal di testa, Peppo Mi ha fatto urlare con mal di testa, mal di gola Benvenuti in questo nuovo video, siamo Luke e Peppo Ragazzi, questo è un video serio Siamo con la GoPro, vedete la GoPro Molto serio, sì, sì, non vediamo molto serio Siamo sulla vasca da bordo No, siamo sul divano in camera Sul divano italiano Siamo sul divano italiano In sala, in salotto, in cucina Questa è questa, la mezza cucina abitabile Vabbè, comunque ragazzi Siamo Luke e Peppo Abbiamo da farvi un annuncio molto importante Ora Aprite le palpe, aprite le orecchie, e chiudete le porte sovvenienti dal cervello Perché tutto deve immagazzinarci all'interno Perché tutto deve immagazzinarsi all'interno Ma nulla deve uscire Anzi, l'unico modo per farlo fuoriuscire è consigliarlo ai vostri amici Sì, condividete questo video Consigliato ai vostri amici Fatelo vedere ai vostri genitori e parenti Mettetelo su Facebook, Twitter Condividetelo su Instagram Dovunque voi vogliate Facebook, Facebook Chiamate il vostro amico tramite Whatsapp Li bussate il campanello Li dite Ehi tu, Terun Vai a vedere questo video Ok Perché è proprio Terun? Perché sono Terun anch'io Per cui fa figo dirlo Ragazzi, questo video è veramente importante Mettetelo nei preferiti Nei consigliati Mettetelo in prima pagina Consigliatelo a YouTube stesso Chiamate il manager di YouTube E le dite Guardate questo video Mettetelo in tutte le home page Perché è una cosa molto importante da dirvi Ragazzi, sapete cos'è questa cosa molto importante Che dobbiamo dirvi? È che il video è finito Il video è finito Ok Siamo arrivati alla conclusione sociale Impietante Inguiradevole Perché la gente deve iniziare a capire Soggettare Ed illustrare A se stesso Agli altri Ciò che una persona vuole capire Inconsciamente Inconsapevole Di dover definire Una situazione tale Da poter definirla Acquediente In casa propria O dispiacevole Per persone altrui Perché uno non Pevo parla tu per favore Poi intervengo io Se sbagli a dire qualcosa Vai Allora ragazzi Però se inizia a parlare La soggezione Mi fai ridere Allora È una cosa seria È una cosa seria Che volevamo condividere Con chi ci segue Allora ragazzi Vi piacerebbe far parte Di questi mini sketch Vi piacerebbe E dove cazzo Abbiamo lo spazio Guarda 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 Un paio Li mettiamo nel frigo Vabbè Spiega bene Sto Però la gente Pensa Voglio di più No No ragazzi Seriamente Vi piacerebbe far parte Anche Anche a voi Far parte Di questi mini sketch Ma poi Nei commenti E ti devi far finire Se no poi Infini Tu la lisca di pesce Nella Cioè Poi nell'hard disk E poi si fulmina Capisci Vabbè Però spiega bene Questa parte Vai Qui sotto nei commenti Scrivete Sbizzarritevi Pensate Tutto Ma devono fare Da hashtag Sbizzarritevi Tu hai detto Scrivete Sbizzarritevi Tu hai detto Va bene Va bene Scrivete Hashtag Penso quello lì Sbizzarritevi Tutto maiuso Hashtag ci sono anch'io Hashtag io si Hashtag quello che volete Hashtag Sbizzarritevi 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 E scrivete Sbizzarritevi Una possibile Scenetta Una possibile Scenetta E noi La interpreteremo Nei prossimi mini sketch Nei prossimi mini sketch Così l'hanno capita Sia nel video Che nel tuo video Sì perché Tu parli per te Io parlo per me Scusami Aspetta perché Lo ridiamo anch'io Quindi ragazzi Seriamente Commentate Ecco Sbizzarritevi 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 Allora ragazzi Non stanno capendo niente Possiamo finirlo Sbizzarritevi E tre ore Che cerchi di parlare Ancora non ho detto nulla Sento l'eco Senti l'eco Chiudi il video C'è il video doppio Vai parla Che trovi E sono E sono io E ho anche stretto E devo parlare Il mio video Trozzo Oddio Dai parla Ma l'hanno capito Secondo te Quello che devono fare Ma hai capito un cazzo Che vuoi Di dici da capo Perché Chiedono a partecipare Con noi Perché poi ci sono l'IP Spiega bene Non vogliono l'IP Non vogliono che entrano Allora ragazzi Potete partecipare Con un commentino Qui sotto Chi è Il più Il più carino Il più divertente Quello che diciamo Dove stai guardando Ha detto qui sotto Sotto nei commenti ragazzi No 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 Qui sotto nei commenti ragazzi Il più Il più divertente Il più Quello che ci attirerà di più Noi Lo Interpreteremo Nel prossimo Quindi sketch Metteremo il vostro commento Logicamente con il vostro nick Per cui vedete sponsorizzati Tra virgolette Molte virgolette Nel nostro video Visto che non fanno un cazzo Si si va bene Si vedranno i commenti Allora immaginate il video in questo modo Ragazzi Immaginate lo schermo nero Il vostro commento E poi parte il nostro sketch Cioè voi dovrete dirci Dei vostri sketch Le vostre idee Delle vostre battute Dovete costruirci voi i nostri video a noi Perché non c'è più voglia di fare un cazzo Palesemente Noi ci squacquarallamo sul divano A leggere i vostri commenti Il migliore ve l'ha preso in considerazione Così voi ci date a noi E poi io Proprio quando abbiamo voglia Faremo sto cazzo di video Proprio squacquarallati Proprio video corto Per fare tanti view Per Perché Dobbiamo fare le views Le views Io voglio fare le views Ragazzi Al giorno d'oggi Al mondo C'è molta fame Mangiate anche voi Non ridere Questo era un messaggio Questo era un messaggio promozionale Ma come lo dici tu Non è serio Ma porca troia Vabbè Comunque ragazzi In questo video Come avete visto Non ci sono le eternal love Come dice Pepo Ma perché Sono fuori a fare compere E torneranno molto presto Ragazzi Io spero che avete apprezzato Questo vlog Con la go pro Forse è più lungo degli altri Io spero che l'abbiano capito Io spero che L'abbiate visto tutto Soprattutto Che vedere i video iniziali O a metà Siete degli stronzici Scusate No ragazzi Guardate Imparate a guardare tutti i video Se non vi interessa Non apritelo nemmeno Perché È rovinante la sensazione Del watch time del video Capito Per cui O lo guardate tutto O non lo guardate proprio Per cui Ora io in chat Esigo e pretendo Le persone che scrivono Sono arrivato fino a questo punto Eee Vabbè E se ne vanno via Tutti quelli Che diranno Cosa vogliono No Allora Prima scrivete Cosa vorreste Che noi facessimo Nei prossimi video Poi scrivete Sono arrivato fino a questo punto Ciao un bacio Un grosso abbraccio Quando posso Tiro 100 euro Ti faccio un bel regalo di Natale Mi iscrivo con il tuo canale Con 47 account E metto pollice in su In tutti i video Condivido tutti i tuoi video Perché ti amo Ti amerò sempre E quando morirai Ti farò una statua Una volta scritto tutto ciò Allora noi capiremo Tranquillamente Semplicemente Che siete arrivati Fino a questa parte di video Un video veloce Serio 1-2 minuti massimo E c'è anche questo Ricordate Un bacione Un abbraccio A questo punto stavo Aspetta A questo punto stavo pensando una cosa Sì ma facciamo durare i video Quattro giorni Vabbè stiamo quattro giorni Non senti io Quando attacco a parlare Non mi stop Vabbè mi hai fatto un cazzo Io carico tutto E non faccio tagli Ma non se ne fanno tagli Non faccio tagli Facciamo un live a questo punto Cioè non lo so Fammi vedere Facciamo un video serio Di un minuto 8 minuti sono passati Vai Intanto la GoPro Sto tenendo io C'ho il braccio E mi venco qua C'ho la creepagia Al braccio Passamela a me Passamela a me Passamela a me Vai Parla Dai Allora no Comunque siccome Ora leggeremo i vostri commenti Prossimamente Abbiamo anche deciso Che assolutamente I video Fateli pure voi Così noi proprio Ci mangiamo totalmente Cioè Sbaglio? Ah se loro vogliono farci No 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 Così sarebbe troppo Che poi Dai io devi chiudere il video Così poi andiamo a farne altri Dai no comunque Scherzi a parte Se vi è piaciuto Spolliciate E sbizzarritemi Ragazzi Un bacione e un abbraccio Schiaffo sulla mano a Pepo Perché Ma è stranza Ciao Ragazzi Vi prometto Che il Dalmata tornerà Ciao Basta Ciao È morto quel cazzo Ciao Però chiudiamo anche il video Gridando a questo punto Eh ovviamente sì Al tre Al tre Al tre Al tre Al tre Al tre Tre Al tre Al tre Al tre Al tre Al tre Al tre